Sono Fra Marco Moroni, frate minore conventuale, custode del Sacro Convento di Assisi. Sostengo la candidatura di Assisi, capitale italiana della cultura 2025, perché ritengo che Assisi abbia in sé tutti i requisiti per essere questa capitale. In particolare voglio segnalare il Cantico delle Creature. Qui, presso la Basilica, noi frati abbiamo la cura di un documento eccezionale, che è la prima trascrizione del Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi, che lui ha dettato proprio nel 1225, 800 anni prima del 2025. Il Cantico delle Creature è l'emblema, possiamo dire, di un approccio al mondo, al creato, alla realtà, che è proprio di Francesco, ma che poi ha innervato la storia, la storia dell'Italia intera e non solo dell'Italia, ma l'Europa, il mondo, sono davvero debitori di Francesco d'Assisi per la sua visione del mondo. Il creato, il cielo, le stelle, il sole, la luna, creature di Dio, fratelli e sorelle. Sono fratelli e sorelle che ci trasmettono la bellezza, ci trasmettono l'amore del Creatore. Sono fratelli e sorelle da coltivare e da custodire. Penso che segnalare, mettere in evidenza questo evento degli 800 anni del Cantico possa dire qualcosa in più, ancora qualcosa in più, a ciò che è già bello di Assisi, ciò che è già ricco di bellezza, sia di bellezza naturale, sia di bellezza artistica, come questa basilica in cui ci troviamo. Assisi, creature e creatori. E personalmente aggiungerei anche creatore. E personalmente aggiungerei anche creatore. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.